Il costone roccioso di Via Ligea e quello di Vietri sul mare potranno essere messi in sicurezza a Salerno dopo la decisione del Ministero dell'Interno di stanziare 3 milioni di euro anche per il Comune di Salerno per interventi contro il dissesto idrogeologico. Più in dettaglio sono stati finanziati il primo stralcio dei lavori del costone roccioso di Via Ligea per un importo di poco inferiore ad un milione di euro, altrettanto per il costone di Vietri sul mare ed un terzo finanziamento per il serbatoio di Paradiso di Pastena. Soprattutto nei due primi casi si tratta di una notizia importante perché la delicatezza e la fragilità dell'aria in questione è sotto gli occhi di tutti proprio oggi con l'intervento in corso per riaprire la strada che conduce a Vietri sul mare dopo la frana che l'ha interrotta. Non a caso il sindaco di Salerno Vincenzo Napoli commentando la notizia dell'arrivo dei fondi ha detto che si tratta di tre interventi strategici per la messa in sicurezza del territorio, la mobilità, la salvaguardia ambientale. Ma buone notizie su questo fronte arrivano anche in altri due comuni. A Pellezzano sono oltre 700 mila gli euro che saranno utilizzati per la sistemazione idraulico forestale del Vallone Tullio alla frazione Coperchia. Il comune di Pellezzano guidato dal sindaco Francesco Morra già lo scorso anno è risultato beneficiario di circa 2 milioni e mezzo di euro. Tra questi ci sono anche i fondi destinati alla messa in sicurezza del fronte dove di recente si è verificata la frana a Coperchia, un intervento che purtroppo è stato ritardato da un evento eccezionale ed imprevedibile causato dalle piogge dello scorso 10 febbraio. Infine a Baronissi arrivano quasi 500 mila euro per la messa in sicurezza dell'area Cariti. Come ha affermato il sindaco di Baronissi Gianfranco Valiante, l'obiettivo è raggiungere un maggior contenimento del rischio e della criticità idraulica in un punto sensibile. I lavori finanziati prevedono la realizzazione di un collettore fognario per le acque meteoriche, una vasca e ripristino successivo della pavimentazione. La durata prevista dei lavori è di circa tre mesi.